Per me si gioca, si gioca sicuro al 100%, non ci sta manco un dubbio, ho appena detto alla squadra, quindi non abbiamo di questi problemi. Molto probabilmente scenderanno un 4-2-3-1 contro di noi, quindi c'è da cercare di non farli giocare. Dobbiamo essere aggressivi nella fase di non possesso e dobbiamo curare soprattutto la loro fase di costruzione perché se riescono a servire i loro attaccanti, che sono dei giocatori molto bravi come Di Molfetta, Mancino e Polidori, quindi dobbiamo tenere in grande considerazione il fatto di non far arrivare la palla a questi tre attaccanti. Speranza penso che non è difficile che ce la faccia perché ancora ha dei fastidi, ha un punto preciso che gli fa male, quindi non penso che riuscirà a recuperare. Cenciarelli ieri si è bloccato di nuovo, bisogna valutare oggi come sta, vedremo anche domani, ma difficilmente sarà della partita anche lui. Adesso la cosa che chiedo è la salvezza nel più breve tempo possibile perché vogliamo chiudere questo grande traguardo e che dobbiamo raggiungere questo obiettivo nel più breve tempo possibile perché secondo me è un qualcosa, come ricevo prima, molto molto importante. E poi la società ha bisogno anche di avere delle valorizzazioni su qualche ragazzo, quindi valuteremo anche questa situazione qui, magari se ci sarà la possibilità di vedere all'opera qualche ragazzo del settore giovanile che stanno facendo benissimo. Però la cosa che più dobbiamo avere è sempre la qualità della squadra in campo, cioè sempre organizzazione, sempre attenzione, squadra motivata, sempre con la voglia di voler far bene.